La società civile libica ha una grandissima tradizione che è data addirittura dall'Ottocento, quindi mi aspetto moltissimo da loro perché sono profondamente consapevoli. C'è un'analisi accuratissima e attenta dei problemi, c'è un lavoro febbrile che va avanti da tanto tempo e che naturalmente costituisce veramente l'ossatura di quello che è appunto il futuro della Libia. Insieme ovviamente alla necessità di operare riforme, cosa di cui si è parlato abbondantemente nella conferenza di Palermo che effettivamente voleva essere un momento per la Libia e con la Libia proprio per ragionare su come procedere. La società civile libica oggi si è interrogata in maniera molto direi vivace e anche sincera sulle questioni soprattutto relative ai giovani e alle donne che costituiscono, come tutti ben sappiamo, il motore vero del cambiamento perché è dalle famiglie e naturalmente anche dalle speranze, dalle aspirazioni e delle capacità dei giovani e delle donne che si costruisce ovviamente un mustah bal, un futuro reale, soprattutto duraturo che porti effettivamente delle innovazioni che possano poi sostenere una pace e una prosperità per la Libia che è quello che veramente noi tutti ospichiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.